Eccoci, allora questa è una chiacchierata informalissima, informalissima sul capitolo 1128 di One Piece, lo sapete, dovreste saperlo, non abbiamo fatto la blind reading reaction, non faremo la blind reading reaction, in realtà non ci sarà purtroppo nemmeno il One Piece report classico solito del sabato, sono in partenza, però prima di andarmene e di lasciarvi ai vostri meravigliosi affari, almeno una chiacchieratina, ecco di nuovo informale, fatta di impressioni, di sensazioni su quella che è stata la mia personale, in questo caso lettura del 1128, ve lo volevo comunque lasciare, nonostante ecco non sia una vera e propria analisi a cui insomma siete solitamente abituati, non sarei neanche in grado materialmente di farla perché il capitolo che è uscito in inglese è una early version, quindi non sono sicuro al 100% della traduzione, tra l'altro la qualità non era neanche poi in super HD, ultra, mega, bellissimo, motherfucker, era leggibile, si capiva, si vedeva tutto, però si vedeva che alcune pagine erano proprio le fotocopie, le fotocopie però fatte un poco meglio, ecco. Però, tanto è bastato per darmi un'idea, per darmi delle sensazioni, per farmi divertire molto, quindi volevo proprio raccontarvi questo, ovvero che io trovo incredibile, sotto alcuni aspetti antropologicamente affascinante, come a distanza di più ormai, di 27 anni, i Mugiwara continuino a rimanere degli incredibili, adorabili, fantasmagorici cazzoni. Quando l'Eichiro Sensei li inserisce in queste dinamiche narrative, per quanto mi riguarda danno proprio il meglio di loro. Immagino che magari tra di voi, molti di voi, penseranno che oggi come oggi, vedere i Mugiwara così è forse qualcosa che si è visto mille volte, e tra poco ne parliamo. Magari molti di voi ormai vogliono vedere i Luffy duro e puro, comunque sempre il Gear 5, che in questo capitolo c'è, oppure tutti gli altri che ormai sono potentissimi, però per quanto mi riguarda, quando Oda davvero continua quasi a tenersi strette le sue origini, i suoi personaggi delle origini di One Piece, e questo capitolo, come anche quello precedente, c'è proprio il nucleo primigenio, principale, diciamo così, la versione Prime dei Mugiwara, per me è sempre una grande gioia. Alla fine comunque avevate ragione, molti di voi avevano ragione, quello che abbiamo visto è stata tutta una truffa, una specie di mondo delle illusioni, però ecco, alla fine di questo capitolo, proprio divertentissimo, anche questo di intrattenimento purissimo, no? Secondo me quello che poi rimane al lettore, sulla pelle del lettore, impressa nelle retine dei lettori, non sono i Lego, non è questo mondo strano, questa truffa, non sono questi giganti che poi non sono giganti, ma in questo momento sono persone normali, neanche i mustri, e neanche questa sorta di divinità del sole, sembra più una lei che un lui, ecco. Però quello che mi continua a affascinare, lo ridico, è proprio l'affiatamento tra i Mugiwara. Zoro qualche capitolo fa si lamentava del fatto che loro ormai sono una ciuma di un imperatore, e quindi, ma come, noi siamo una ciuma di un imperatore, ci mettiamo a piangere per un vecchio, ma il bello è proprio questo, che nonostante magari il mondo pensa che loro siano dei mostri, siano ormai una delle ciume più potenti del mondo, siano dei pirati pericolosissimi, tra di loro, in quelle che sono le loro dinamiche, dei Mugiwara naturalmente, ma sono proprio i soliti cazzoni, i soliti idioti. Io rimango disarmato, io personalmente quando vedo quella roba lì, rimango proprio disarmato, non ci posso fare niente, e anzi, magari credo che giustamente, come accennavamo anche un attimo fa, dopo 27 anni di gag, di battute, di trovate ormai viste e riviste, per quanto mi riguarda questa roba qui, proprio non mi stanca mai, personalmente non mi stancano mai, cioè vedere le faccette buffe di Luffy, le faccette buffe di Zoro, Zoro che si incazza, Sanji che tiene tra le braccia Nami e dice che, cioè fondamentalmente, lui dice, ma che cos'è, quindi siamo dentro un sogno, se questo è un sogno non svegliatemi, no? Ma non sta parlando di quello che è intorno, sta parlando del fatto che lui sta tenendo tra le braccia Nami, no? Quindi per lui è un sogno, mille volte. Il momento in cui arriva l'abitante dei Lego, gli dice, oh purtroppo ci hanno ammazzato il dio con le orecchie lunghe e loro chiaramente sanno, no? Che è Luffy e Luffy sta per dire, sì, sono stato io e tutti quanti, no? Cioè uso poi l'idea a bocca premuta e tutti gli altri che fanno finta di niente con le faccette, no? Ebbè, cioè l'abbiamo viste mille volte, anche quel tipo di espressione facciale, slapstick da cartoon, da cartone animato, Oda ce l'ha mostrato 6700 volte e non stancano mai. E penso, credo, non lo so, però per quanto mi riguarda in questo caso, che la chiave del segreto del fatto che questa roba continui a divertire e a funzionare è sempre Ciro Oda. Cioè, secondo me, il punto, ritorniamo sempre allo stesso punto di partenza. Lo dicevamo anche l'altra volta, lo diciamo spesso, ultimamente, si diverte. Anche questo è un capitolo dove emana, è un capitolo che trasuda del divertimento del proprio autore e il fatto che questa cosa si veda traspare anche proprio dalle azioni di Luffy, no? Anche qui, Luffy, che per la 774esima volta non appena sente, mi raccomando, non andate in quel posto lì, perché lì c'è il Tempio del Dio del Sole e nessuno è mai tornato, ci sono i tizi superfortissimi. Luffy proprio non si accende, va! E' come Oda, perché Luffy è Oda e Oda è Luffy. E quindi, fintanto che Luffy si diverte nelle sue avventure, è perché Oda si diverte a raccontarle e viceversa. Luffy non si è ancora stufato di andare all'avventura, perché è quello che lo manda avanti. Neanche arrivare, ecco, alla conquista di quel suo sogno, per arrivarci bisogna diventare re dei virali, diceva, no? Però, quello per paradosso nella vita di Luffy è secondario. La cosa principale è vivere il momento, vivere l'avventura, ecco. E a me sembra che Oda, proprio anche come autore, viva proprio per questo. Cioè, viva per raccontare la sua stessa storia, cioè la sua storia, perché fare il mangaka è la sua grande avventura. Ecco, questo è quello che io ho percepito nel leggere questo capitolo 1128. E poi c'è di nuovo tutto il contorno, no? Sono anche Nami che redarguisce Zoro, quasi come se questa voglia di avventura fosse colpa non di Luffy che va, e che quindi coinvolge sempre tutti, trascinando poi i suoi compagni nelle peggiori disavventure, in questo caso. Però fa ridere, no? Che Zoro appena sente, ma lì ci sono i guerrieri potentissimi, nessuno li ha mai sconfitti, nessuno è tornato vivo. Ma prima lui proprio si imbruttisce e Nami dice, è colpa tua, è colpa tua! Se diventano sempre tutti così, è colpa tua! Se Luffy diventa così, non ci posso fare niente. Credo che, almeno su di me, tutta questa impalcatura semplice, scoppiettante, roboante, cazzona, funzioni. E quindi io probabilmente la recepisca bene, perché comunque si basa su quello che Deichiro Sensei ha sempre fatto sin dagli inizi, e su cui ha costruito anche la base della sua fortuna come storyteller. Cioè, il mantenere spesso e volentieri, almeno nelle fasi iniziali delle sue saghe, questa atmosfera leggera, gioiosa, ecco, di pure cazzate. Questo è quello che, molto stringamente, vedete, non è stato neanche un sequestro di persone a quello di oggi. Non poteva esserlo, perché, di nuovo, non ho avuto tempo di mettermi lì a vedere ogni singola vignetta per bene, capire per bene, magari lo faremo settimana prossima con più calma. Però, non vi volevo lasciare da soli. Almeno due parole. Due parole mi andava a dispendere, perché fortunatamente il capitolo questa mattina, prima di, insomma, di andarmene io, c'erano e quindi credo che, secondo me, dovremmo prendere tutti quanti un po' anche la palla al balzo che ci ha fornito Le Chiro Sensei con questo capitolo 1128 e dire divertiamoci tutti, divertiamoci sempre, andiamo all'avventura, perché l'avventura non ci fa paura. Ecco. E con questo io vi lascio, vi mando un bacione, un abbraccione, ditemi voi che ne pensate di questo capitolo 1128, se l'avete letto, lasciandomi sempre in un commento qui sotto, su YouTube, oppure sulla mia pagina Instagram. Lo dico alla fine, perché tanto poi alla fine ci arrivano sempre in pochi. Se siete comunque arrivati a questa fine, mettete comunque un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, le solite cose, perché, ma veramente, lo dico solo alla fine, ve l'avrei dovuto dire all'inizio, ma lo dico alla fine, stavolta, e una persona su due che ritorna a vedere i miei video non è iscritta al canale. Pimpigiatela, iscriviti, vi costa niente. Ci vediamo presto. Hashtag, se siete arrivati alla fine, qui sotto nei commenti, hashtag, viva l'avventura. Oppure, l'avventura non ci fa paura. Scegliete voi, vanno bene entrambi. Ciao.